Sono stati portati all'ASCO di quest'anno l'update, gli aggiornamenti sul famoso studio ormai che tutti conosciamo di Pivo pubblicato lo scorso anno con l'utilizzo del biosimilare tra studio biosimilare SB3 che per la prima volta va a evidenziare il confronto in un setting di popolazione neodiuvante R2 positivo con l'utilizzo dell'SB3 confrontandolo in un trattamento chemioterapico standard neodiuvante confrontandolo con il Trastuzumab e Erzeptin Il dato interessante dello studio di Pivo pubblicato nel 2019 è proprio quello che è lo studio con una casistica maggiore più di 800 pazienti randomizzati con un random 1 a 1 tra i due tipi di trattamenti tra le due molecole e che per la prima volta va a identificare come poi in primario come il Trastuzumab biosimilare SB3 ha una PCR ovvero un raggiungimento della risposta completa patologica assolutamente uguale a quello dell'Erzeptin quest'anno sono stati presentati gli aggiornamenti a 4 anni dello studio di Pivo interessante perché? perché l'end point questa volta non era l'efficacia di trattamento ovvero la PCR la risposta completa patologica quanto la safety in termini di incidenza di tossicità soprattutto cardiaca ebbene sottolineando che è la prima volta che si va a valutare in un follow up prolungato oltre i tre anni la safety di un Trastuzumab biosimilare il dato importante è che non ci sono state evidenze con l'SB3 rispetto al Trastuzumab associato al trattamento chemioterapico di incidenza maggiore di cardiotossicità sia in termini di congestiziopatia sia in termini di morti tossiche cardiaca e sia in termini di nessun'altra evidenza di altri effetti collaterali cardiaci gli endpoint secondari di questo studio era la ricaduta di malattia sia sulla mammella contoraterale che sulla malattia a distanza e lavoro al survival il confronto è un confronto interessante perché non si evidenzia nessuna diciamo differenza tra le due molecole tra l'SB3 e il Trastuzumab ma addirittura si evidenzia un trend a favore dell'SB3 sia in termini di EFS con una ricaduta di malattia a distanza in un follow up di 4 anni di 86% per il gruppo delle pazienti che effettuavano il Trastuzumab biosimilare verso l'81% delle pazienti che effettuavano il Trastuzumab berceptin e in termini di overall survival troviamo come nel Trastuzumab biosimilare nel braccio delle pazienti che effettuava il Trastuzumab biosimilare abbiamo un 94% di overall survival a 4 anni rispetto a un 89% del Trastuzumab berceptin dati che ovviamente dobbiamo considerarli precoci trattandosi diciamo di pazienti e con una early disease e che effettivamente poi gli autori terminano dicendo che abbiamo bisogno di un follow up ovviamente più prolungato per dare il dato definitivo sia di efficacia che di safety ma abbiamo comunque un'interessante informazione che è proprio quella che non abbiamo nessuna differenza in termini di carriossicità e di altri effetti collaterali e l'attività in termini di risposta completa patologica assolutamente analoga a quello del Trastuzumab originator all'asco di quest'anno dove si è molto focalizzato l'utilizzo dei biosimilari per la prima volta a mio avviso dato estremamente importante ci sono diciamo dei risultati di l'utilizzo del Trastuzumab biosimilare dell'SB3 dell'ontruzant in un real life sappiamo tutti come i dati di real life sono estremamente importanti perché è la traslazione nella pratica clinica di ciò che abbiamo noi nella nella vita di tutti i giorni ma soprattutto è l'evidenza di quanto le pazienti sostengono i nuovi trattamenti e in questo caso appunto il biosimilare confrontandolo con i dati della letteratura che sappiamo perfettamente sono pazienti molto selezionati e così abbiamo due documenti importanti e interessanti su real life e l'ontruzant e Anderson che primo nome di uno studio di real life del gruppo danese che va ritrospettivamente a valutare l'utilizzo dell'ontruzant l'SB3 in una popolazione di pazienti in trattamento neodiuvante ma dato importante che per la prima volta vediamo come l'SB3 l'ontruzant viene associato al pertuzumab studio retrospettivo che include 215 pazienti tutte pazienti che effettuavano un trattamento chemioterapico sequenziale antraciclinotaxani associato al pertuzumab trastuzumab quindi praticamente è la la pratica clinica in cui noi utilizziamo il pertuzumab associato al biosimilare hanno valutato come poi in primario la PCR e la risposta completa patologica delle pazienti che effettuavano questo la doppietta del pertuzumab con il biosimilare con l'ontruzante è assolutamente in linea con i dati della letteratura si è raggiunto un 56% di risposta completa patologica e cosa importante è che il 68% di risposte complete patologiche erano sull'N che sappiamo perfettamente come è un risultato di risposta completa patologica più difficile rispetto da ottenere in maniera più difficile rispetto al risultato sul tumore mammario un secondo risultato di real life studio retrospettivo più piccolo è del gruppo austriaco dell'università di Glens suppon come primo nome una casistica di 35 pazienti che utilizzano il doppio blocco anti-R2 in un setting di popolazione neoadjuvante 35 pazienti di cui 22 avevano effettuato il doppio blocco in un setting neoadjuvante anche qui l'end point era diciamo la safety volevano appunto valutare se doppio blocco includente l'ontrozzante fosse diciamo avesse diciamo una tossicità maggiore e quello che è stato dimostrato è che le pazienti hanno conservato una mediana di frazione diiezione ventricolare al 60% quindi hanno conservato la mediana di frazione di azione ventricolare del basale del dato basale anche questo studio anche se più piccolo ci dà delle informazioni diciamo interessanti perché tranquillizzanti per la pratica clinica la risposta completa patologica di queste pazienti si aggira intorno al 50% delle 22 pazienti che effettuavano il doppio blocco neoadjuvante e 11 hanno avuto una risposta completa patologica quindi assolutamente in linea con quelli che sono i dati della letteratura che utilizza il perturso ma per più l'herceptin trastuzumab originator il real life rappresenta a mio avviso un passo importante per l'utilizzo dei biosimilari nella pratica clinica i clinici vogliono questo vogliono avere la certezza di un non solo di un'attività dei farmaci appunto biosimilari ma soprattutto di una safety lì dove c'è diciamo l'analogia l'uguaglianza terapeutica in termini di attività si vuole ovviamente non danneggiare la paziente e quindi sottolineare come questi biosimilari sono assolutamente safety nella nostra pratica clinica grazie a tutti